MA LISCIAMI LE MELE SU DI SHOW Madonna ragazzi sta posta sta fa pesante perchè c'è ascolta io un messaggio così allora risposta è il titolo del messaggio cioè risposta cosa? Non c'è ancora da capito insomma The Elder Scrolls V Skyrim è bellissimo e se dici che fa schifo allora non ti piacciono i videogiochi Cioè se a me non piace Skyrim allora vuol dire automaticamente che a me non piacciono i videogiochi Ma un po' di fantasia cioè fai schifo perché ti potevi lanciarmi mille insulti dire mille cose in maniera più convincente Cosa dici? Se non ti piace Skyrim se ti fa schifo Skyrim allora non ti piacciono i videogiochi Ma se ti sei peggio di me schifo Madonna ragazzi ma forse perché mi piacciono i giochi d'abilità dove si sfidano delle persone Cioè non ti è venuto in mente che forse oltre al single player c'è anche il multiplayer Forse c'è anche il pro gaming forse eh mamma Oddio Guarda esci dal buco in cui ti sei ritornato perchè te veramente Non hai capito un cazzo dei valori del gioco del gaming che ci sono Oltre al single player e andare per un campo a raccogliere ortaggi come fai te tutti i giorni Sulla tua xbox 360 comprata da papà Eh? Eh gnei gnei ma vai a cacchiare vai Eh perché capito Skyrim deve facciare tutti No ragazzi non ce ne dai vaffanculo Che poi con quest'avatar qui voglio dire guardate l'avatar Guardate l'avatar guardatelo No copro il nome perchè non voglio fare pubblicità ma Guardate l'avatar guardatelo guardatelo Madonna madonna ma ovvio 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 come il piscio dopo la birra Ma lisciami le mele sudicio